Io ero un ragazzino, facevamo, mi ricordo, in un piccolo paese del Monizio, 750 anni, ci avevamo messi in testa di fare un giornale locale, avevamo un prete che aveva molto, mi ricordo il Cinare, mia madre aveva un negozio di genere alimentare, io prendevo le bottiglie del Cinare e in qualche modo barattavo per il ciclo stile che ci faceva fare e da lì poi è stata una sorta di scalata, meno dato del tempo però, perché per fare questo c'è bisogno dell'impegno, quindi dico, oggi ho visto i lavori di quei ragazzi che sono belli, avevano un'idea, erano ben strutturati, erano in grado di esprimere delle cose, bene io dico ai ragazzi fate con ostinazione, inseguite il vostro sogno e in qualche modo combattete anche chi vi dice che questa cosa non è adatta a voi, perché se ci credete veramente poi ci siamo arrivati.